Comunque, siamo fermati un attimo, siamo in macchina perché siamo fermati un attimo all'Auxologico a vedere se gli esami di Charlo sono pronti. L'abbiamo fatti il 15 dicembre. Guardate che io non lo farò più perché già mi hanno tolto 7 fiallette di Charlo. È vero, Charlo non le vuole più fare, giustamente gli esami. Dovevano essere pronti il 24 ma non sono ancora pronti e quindi Michael è venuto a vedere se riesce a ritirarli qui invece che online. E siamo andati prima all'IKEA e abbiamo preso... Questa qui che è la... come si chiama? La libreria. Volevamo prendere Billy. Il nostro... come si diceva? Il caffettino non sarà casinato da tutti i nostri libri. Sì perché siamo pieni di libri, tra me e le bambine siamo pieni di libri. Però Billy oltre che era tipo 2 metri e passa di libreria pesava tipo 40 kg e non ci stava in macchina questa qua, ci stava proprio giusta giusta, arriva fino in fondo, non so se si vede. E quindi abbiamo preso questa che è Grasby Grasby, non so, insomma c'è quel nome. E appunto non vedo l'ora di mettere tutti i miei libri perché io leggo tantissimo, so che non c'è mamma, leggo tantissimo. E porca miseria siamo qui e c'è la fila per fare il drive-in, il tampone, insomma, il tampone in macchina. E tu le hai fatti tanti i tamponi. E' pienissimo, ma quanta gente che c'è. I tamponi non li farò mai. A proposito, sono già fatti abbastanza, mi sembra i tamponi. Voi come state, come va, tutto a posto? Noi tutto bene, per ora. A parte ciarono sempre i suoi acciacchi però. E niente, finalmente, giovedì che è il 30. E questo è l'ultimo video dell'anno. Vado a farmi le unghie perché oltre che è una ricrescita allucinante, la mia roba è, mi si è spezzata un'unghia, sembra un'unghia malata, ma schifo proprio. Ieri mentre giocavo col pongo, non so come sia successo, si è spezzata praticamente a metà. Bruttissima. E quindi domani li vado a rifare, giovedì li vado a rifare, dolore. Così ho anche le unghie pronte per Capodanno. E niente, insomma, ci aggiorniamo dopo quando siamo a casa che montiamo la libreria. Ma così vi facciamo anche vedere i regali che hanno ricevuto le bambine per Natale. Non vi spaventate perché sono molti, però, insomma, dipende solo da me. E visto che me li avete già visti nel video scorso, quindi, insomma, vi facciamo vedere un po' i loro regali che sono sicuramente molto di più e molto più interessanti per voi e per i vostri bimbi. Allora, oltre alla libreria abbiamo preso anche questa perché noi usiamo un sacco le scatole. Sento che non abbiamo spazio. Le usiamo, sì. Nell'armadio, no, per i pupazzi, per i vestiti. E avevo bisogno di un'altra scatola. Questa è la samla. Questa qui, insomma, è comoda. E adesso ci metto dentro le cose per avere l'armadio più sistemato. Intanto vi facciamo vedere il primo regalo che hanno ricevuto entrambe da Babbo Natale. Sono uguali, è la stessa identica. Stiamo mettendo le pigre perché, appunto, non sapevamo che le pigre non le erano incluse. Sendo che non le prendiamo noi ma le portavamo a Babbo Natale, noi sapevamo che servivano le pigre. Servivano le mezzo torce. Adesso le vediamo in azione. Fai l'aspirapolvere! Poi, come altro gioco che è arrivato, quelle due appunto sono di entrambi, questo qua è di Chanel, ceccio bello bua. Vabbè, adesso gli accessori saranno sparsi in giro per la casa. E questo qua adesso vi mostriamo gli altri con Sharon. Betsy con il ciocco viola. Betsy che Sharon ce l'aveva anni fa ma adesso è cambiata, c'è il ciocco viola. Queste pentoline qui, sono di Chanel, ce ne sono altre ma non so adesso dove sono. Poi vabbè, io mi sono presa questa qua perché faccio tutte le mie creazioni, tipo adesso faccio i braccialetti, queste cose qua. Invece Michael ha preso questo qua per tutti, per la Switch che giochiamo tutti quanti insieme. Ciccio bello, gattone cammina, troppo tenero, carinissimo. Cacaron. Cacaron. Chanel, Chanel, questa bambola, i miei trucchi. Carini. Poi? Poi, Go Go, che tipo balla e cammina. E abbaia. Poi, questo? Bingo Flamingo che fa la cacca e canta. Anna. Anna. Di Chanel, questo anche è di Chanel, invece questi qua sono di Sharon. Poi, pezzo forte, vai. Poi ce n'è altro di là. Il pezzo forte. E questo è di Sharon. Maialino, molto carino e morbido. Molto morbido, tipo silicone. Andiamo a vedere gli altri. Sì. Qui sotto abbiamo questo, che ha chiesto Chanel. Le do pizza. Poi, questo, ma Chanel ne è letteralmente terrorizzata, non capiamo perché. Questo qua è per tutti. E Sharon ha voluto questo. Questi qua e Anna, gliel'abbiamo regalati noi come regalo dei genitori. Mangia i po'. Ah, no, manca un'altra cosa. Intanto che Sharon fa l'aspirapolvere per casa, hanno ricevuto queste due. Chanel erano quelle chiuse, quindi non si potevano scegliere. Chanel ha trovato questa e Sharon ha trovato questo. È rimasta un po' delusa, non ha schietto. Mi piace un sacco, però fortunatamente Sharon aveva già anche questa nana. Quindi ha fatto... Mi piace. Ha fatto la coppietta. Questi dovrebbero essere tutti i regali di Natale. Dovrebbero. Dovrebbero. Adesso facciamo la prova del 9 se aspira. Eh, direi che quella di Sharon non aspira di più. Libreria montata. Già, c'è tantissimo. Vi faccio vedere. Allora, ho fatto qui il reparto 50 sfumature. Michael ci ha messo questo. E poi ci ha messo questa qui. Dobbiamo comprare la piantina con l'arampicante. Michael vuole comprare un'altra di questa libreria. Magari quando andrà a prenderà la piantina che scende. Finta. Poi, qui ho fatto il reparto Stephen King. Altro un po' di cose così, tutte quante comunque. Quasi tutte a tema horror. Praticamente tutte Auschwitz. Robi un po' trisi. Qui ho messo la tazza di Hit e il Funko. Qui c'è il reparto After. Mi mancano i primi due, ma devo comprarli. Perché avevo visto i film, quindi non li avevo comprati. E vabbè, altri libri così. Altri Funko. Questo l'ha messo Chanel. Qui c'è il reparto libri delle bambine. Con anche quelli personalizzati di Sharon Chanel. E lì sotto altri libricini. Mi piace un sacco. E qui abbiamo Sharon che sta leggendo un libro. Perché si è invoiatta a leggere libri. Così saranno anche più comodi per loro. Perché prima erano lì sotto e era un po' più scomodo. A me non li prendono. Se lo prendono e possono leggere quello che vogliono. Anche tu lo prendi? Vai, prendo anche tu. Io prendo. Quale prendi? Prendi quello del Mac? Sì. Vai. Quale vuoi? Per te. E' facile. Non è che lettere che ci ho. Buon appetito. Va bene. Noi concludiamo questo video così. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Anzi, al prossimo anno. Ah, ciao. Auguri. Auguri. Che bello. Ciao. Ciao. Ciao.